Weekend come sempre di fuoco per il calcio dell'etante Irpino. Le compagini impegnate nei campionati di eccellenza e di promozione sono pronte ad affrontare match difficili ma allo stesso tempo esaltanti. La Virtus Avellino di Gianluca della Rocca va scafati in casa dei canarini di mister liquidato e in netta ascesa. Cercheranno comunque di bissare il successo ottenuto nel derby contro i Lioni di sette giorni fa. Mentre il blograna di Marasco a Giorlano ospitano il buccino del grande ex Ferullo e che dal suo avvento non subisce reti. Chirpini sono chiamati a fare risultato perché risucchiati nelle sebe mobili della classifica. Il Lions a Del Colano per l'impresa impossibile, i napoletani di mister di Pasquale in casa sono imbattibili e i Lioni di Sgambati, carichi dal successo sul costa da Malfi, non hanno nulla da perdere. Il Cervinare a Montesarchio contro il Sant'Agnello per ritrovare la vittoria perduta. I Biancazzuri dopo l'ottimo parigi ad Agropoli vogliono tornare a camminare in zona playoff, zona che il slow fra Gallucci contro il calzai San Giorgio vuole consolidare soprattutto dopo la pesante sconfitta sul campo del Gifoni di mister Messina. Chiude il carotenuto secondo match in casa di fila per i grossoneri di Bianco. A Brusciano arriva il Faino dei Miracoli, i mandamentali si affidano ad Acirno per strappare altri punti pesanti in chiave salvezza. In promozione il Baiano contro il Gesualdo per continuare il sogno del primato. Il Granata di Manna contro quelli di mister Napolitano comunque non avranno vita facile. Al Durante la Savignanese di Della Marra ospita la quotata Ottaviano di Bomber Lucignano. Gli uffitani tra le muramiche hanno concesso punti solo al punte e fanno del Durante il loro fortino. Allo scotece il Belizzi di Quaia dopo le due sconfitte di fila casalinghe contro Apice e Caserquoto ha il dovere di tornare a successo per riposizionarsi nelle zone di classifica che gli competono. Città di Avellino e Bellinum, penultime e ultime in classifica, vanno in trasferta nel Zammio. Gli avellinesi affronteranno il ponte di Mauro e di Bomber Castiello. Gli ripaldesi di Marcello De Stefano, il giovane Montesarchio.